Vabbè lo sai com'è mettere i conti. Arrivano le feste comandate, devi lavorare. Eh lo so, a me lo devi dire. È una tragedia proprio. E va bene, intanto tu a Pasquetta sei uscito. Ehi, sono uscito. Dopo tre anni, per me, come turno, toccava pure a me. E dove sei andato a proposito? Il turismo che sta qua vicino. Ah, è bello quello. Ma sei divertito? Abbastanza. Ci sono state tante cose particolari, c'è l'animazione. A un certo punto, una cosa particolarissima veramente, erano le quattro, quattro e mezza, è successo un incendio. Che succede? Si, stavamo mangiandolo, sento questa puzza di fumo. Eh? Che la stalla sta bruciando. La stalla? Io non ci credo, vado a fuoco, tutta la stalla, che buuu, il tuo fuoco, che macello. E non ha chiamato i pompieri? No, che pompieri. Perché? E' un fuoco di paglia, voglio dire, cioè. Ci sono divertite, basta. Ma io... No. No. No.